11 lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza nel Monfalconese, tra officine, ristoranti e bar. Maxi sanzioni fino a 11.700 euro per ogni addetto irregolare ai proprietari delle attività. Nel corso del mese di maggio i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone hanno intensificato i controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso. In un' auto-officina sono stati scoperti due meccanici intenti a lavorare senza un regolare contratto di lavoro e in assenza delle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia. Nei confronti del datore di lavoro è stata applicata una sanzione di 3.900 euro. L'attività è stata sospesa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in virtù dell'impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 10% di quelli regolarmente assunti. Nel corso di verifiche in alcune attività di ristorazione e bar tra Monfalcone e Ronchi dei Regionari sono stati inoltre individuati complessivamente nove lavoratori in nero tra gli addetti al delivery e il personale di sala. Nei confronti delle attività economiche è stata emessa la maxi sanzione fino a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare. Anche in questi casi è scattata la richiesta all'Ispettorato per la sospensione dell'attività.